Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Parliamo inizialmente della Lazio che dopo la vittoria in extremis in rimonta con il Torino è attesa domani dalla sfida di Champions con lo Zenit in trasferta. Inzaghi dovrà rinunciare ad alcuni giocatori, tra cui Immobile, che non hanno superato il tampone UEFA. Ma a questo proposito ci dice tutto Lorenzo Di Benedetto. Sì ciao Lorenzo, buonasera a tutti. A giornata di vigilia per quel che riguarda la Lazio che tornerà in campo domani in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Lo Zenit ancora a quota 0 in classifica, mentre la Lazio di Simone Inzaghi è a 4 dopo la vittoria all'esordio contro il Borussia Dortmund e dopo il pareggio contro il Club Brugge della settimana scorsa con i Bianco Celesti che dovevano far fronte alle tantissime assenze. E ripartiamo proprio da qui perché ci sono tre cattive notizie per Simone Inzaghi che non potrà contare su Ciro Immobile, nuovamente su Stracoscia e su Lucas Leiva. I tre giocatori sono rimasti a Roma ancora una volta e non potranno dunque prendere parte alla trasferta di Champions League. Negativi i loro tamponi per quel che riguarda la Serie A, però in Champions League le regole sono diverse e ancora non possono essere utilizzati da Simone Inzaghi per le gare ufficiali di Champions League. Quindi tre problemi da risolvere, uno su tutti chiaramente quello relativo a Ciro Immobile perché dopo essere tornato al gol su calcio di rigore proprio nella trasferta contro il Torino in campionato non sarà in campo domani contro lo Zenit San Pietroburgo. Una Lazio che se dovesse riuscire a vincere questa partita metterebbe una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale o almeno estrometterebbe praticamente dai discorsi qualificazione lo Zenit e quindi ci sarebbe un avversario in meno per i due posti validi per la qualificazione agli ottavi di finale. È una Lazio che pensa alla Champions League ma inevitabilmente Simone Inzaghi pensa anche alla prossima partita ovvero quella di campionato di Serie A, ovvero quella contro la Juventus dove potrà sì tornare a contare su Ciro Immobile. Prima però chiaramente ci sarà da pensare all'Europa che è un obiettivo chiaro per Claudio Lotito soprattutto quello di andare agli ottavi di finale di questa competizione. Poi ci sarà la Juventus, poi la sosta però due impegni molto ravvicinati e molto complicati per la Lazio di Simone Inzaghi. Fottiamo pagina ed occupiamoci della Juventus che dopo la vittoria in campionato sullo Spezia se la vedrà domani in Champions con il Ferencvaros. In gruppo per i bianconeri è tornato anche Chiellini. Alla partita di domani potranno assistere 20.000 spettatori. Buonasera a Ivan Cardia, si attende un'atmosfera particolarmente calda? Buonasera Lorenzo, si ci sarà un'atmosfera molto calda sicuramente i 20.000 tifosi che ci saranno alla Puska Serena di Budapest con ottime probabilità saranno il principale pericolo che il modesto Ferencvaros, squadra con tanta storia ma attualmente poche ambizioni potrà frapporre alla Juventus. È una partita impari, lo stesso Rebrov, tecnico della squadra di Budapest ha detto che non vede l'ora di giocarla perché gare così sono un onore per un club come il Ferencvaros la Juventus ci arriva dopo il passo falso col Barcellona e dopo la vittoria con lo Spezia. Ha dentro di sé dei potenziali pericoli perché ovviamente il rischio di prendere sotto gamba una gara contro un avversario comunque non all'altezza c'è ma ovviamente giocatori come Cristiano Ronaldo e gli altri hanno anche la mentalità giusta per affrontare una partita del genere, la Juve si aspetta risposte da dare a Pirlo e anche da ricevere da Pirlo perché comunque il tecnico deve confermare la vittoria in campionato contro i Liguri e spazzare via qualche dubbio è una Juve che ovviamente ambisce al primo posto del Girona si è un po' complicata la vita, ha un ostacolo non insormontabile è sulla strada per trovare una propria definizione e la cercherà anche ancora una volta in Champions League contro il Ferencvaros. Salutiamo adesso Paolo Giovannelli, grande ex della Roma che in carriera ha giocato tra le altre con Pisa e Ascoli buonasera e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo chiederti un ricordo di Romero Alconetani il presidentissimo del Pisa tu sei stato un suo giocatore nell'esperienza in Nerazzurro oggi sono 21 anni dalla sua morte quindi vorrei che tu ci raccontassi un aneddoto particolare legato alla figura carismatica e anche pittoresca del presidente Anconetani ma aneddoti sono stati tanti sono stato quattro anni a Pisa quindi ho avuto varie situazioni vissute diciamo fianco a fianco col presidente come tutti sanno era un personaggio un po' particolare grande generosità ma diciamo era anche un po' complicato a volte viverci accanto quindi di episodi ce ne sarebbe tantissimi anche forse da riderci sopra però dico solo che l'ultimo anno che sono stato a Pisa ero capitano e fu l'anno più difficile a livello economico per cui nonostante che alla fine dell'anno siamo andati in Serie A trascorremo un anno particolarmente difficile e io essendo capitano tutti i martedì dovevo andare in sede a discutere degli aspetti economici perché i compagni di squadra alla fine dell'allenamento sollecitavano il mio intervento io ero costretto tutti i martedì andare a parlare col presidente diciamo con alterne fortuna diciamo così comunque alla fine poi emergeva questa figura che riusciva a far rendere sempre al massimo la squadra ai giocatori li teneva sempre in tensione e riusciva comunque ad ottenere risultati positivi per la sua squadra in generale sì sì era ripeto è stato un grande presidente un grande personaggio e anche con questo carattere un po' turbolento e difficile a volte però aveva delle grandi qualità anche di compattezza ricordo per esempio l'ultimo anno di Pisa con la promozione a Cremona la terza ultima giornata giocavamo a Cagliari Cagliari già a retrocesso e nonostante che si vincevano a 0 al primo tempo si perse 2 a 1 e fu una mezza tragedia e lì negli spogliatoi fu veramente bravo il presidente perché tutti ci aspettavamo diciamo il finimondo da parte sua e invece entrò dentro e ebbe diciamo l'accortezza e l'intelligenza di ricompattare subito il gruppo di spronarci di diciamo di tirarci su di morale perché ci aspettavano poi le ultime due partite infatti poi vincevamo in casa con la Lazio e andavamo a vincere a Cremona in quel momento lì veramente fu molto bravo perché magari altre persone, altri presidenti avrebbero rotto definitivamente diciamo quella situazione per cui poi saremo andati incontro alle ultime due giornate in maniera un po' così avventurosa invece lì fu molto bravo tra l'altro anche acuto intenditore di calcio ecco questo va sempre ricordato perché comunque è riuscito a portare al Pisa giocatori che magari sul momento non erano così conosciuti però è riuscito a valorizzarli e poi ad ottenere anche dalla loro cessione ottime cifre per continuare a tenere il Pisa in Serie A e comunque a farlo veleggiare in buone posizioni di classifica potresti fare anche tu una lunga lista dei giocatori che sono stati i tuoi compagni di squadra sì sì ma diciamo quelli più eclatanti furono sicuramente Klaus Berg e Winkift cioè comprati diciamo a cifre abbastanza in risorio e poi rivendute invece a quei tempi a miliardi certo poi ricordiamo che naturalmente anche Dunga ha fatto parte del Pisa anche Simeone se non ricordo male Dunga diciamo era in prestito perché fu acquistato da Firentina e il primo anno fu dato in prestito al Pisa invece Kifte e Berg e furono acquisti veri certo io ricordo comunque anche Diego Simeone che è stato di fatto scoperto per il campione italiano da Anconetani parliamo verso la Roma una Roma che inizia a piacerti anche la classifica inizia a sorridere per i giallorossi ma sicuramente a me piace l'allenatore devo essere sincero sia come far giocare la squadra e anche come personaggio diciamo anche se non lo conosco però mi piace il modo lo stile molto tranquillo tranquillo e a Roma non è semplice mantenere la calma e come squadra mi sembra costruita bene anche per come la fa giocare quest'anno lui cioè con questi tre centrocampisti tre difensori quattro centrocampisti e due mezze punti a ridosso di Giacomo quindi mi sembra mi sembra bene avviata diciamo la stagione speriamo Dicevi dell'allenatore che comunque ha dovuto superare qualche problema e anche la pressione ha dovuto sopportarla perché ci sono stati tanti nomi che sono stati accostati alla panchina della Roma all'inizio anno tra questi anche quello di Allegri ecco adesso con questi ultimi risultati ha reso un po' più solida la sua panchina che ne pensi? Ma è più solida sicuramente mi sembra assurdo che all'inizio del campionato già si metta in discussione un allenatore quindi se si pensa ad avere fiducia in un allenatore non è che già all'inizio si debba mettere in discussione purtroppo a Roma è un po' così ogni tanto, anzi spesso viene vissuto questi momenti in maniera secondo me non giusta troppo esasperata perché ti ripeto cioè non esiste o interrompi a fine anno se pensi che non sia l'allenatore giusto ma non è che ci possono essere voci continuamente già dalla prima di campionato però lui mi sembra uno molto tranquillo sicuro delle sue qualità del suo lavoro e ripeto mi piace come figura poi non lo conosco quindi non lo so Ecco quest'anno per quello che hai visto fino a questo momento del campionato può essere una Roma da Champions? Ma io credo che quest'anno almeno all'inizio mi sembra un campionato un po' strano cioè per varie ragioni sia per il discorso Covid sia per il discorso così in generale nel giocare le partite sempre e comunque senza pubblico è vero che il pubblico manca per tutte e due le squadre che vanno in campo però è un calcio un po' strano un po' particolare si vede anche in Coppa dei Campioni risultati che in altre situazioni secondo me non si sarebbero verificate mi viene in mente solamente la prima il Real Madrid che perde 3-0 fino a 5 minuti alla fine con lo Shakhtar Donetsk immagino il Bernabeu con 80.000 persone magari sarebbe stato diverso quindi mi sembra un'annata un po' particolare e in quest'annata particolare è chiaro che anche le big o le squadre quelle che inizialmente sembrerebbero più attrezzate tipo Itte, Juve, credo lo stesso Napoli magari possono far più fatica e squadre invece come la Roma vedi il Mila possono invece ritagliarsi spazi importanti durante l'anno Siamo all'inizio Certo, certo Dicevo tra i giocatori giallorossi, tra i nuovi si è inserito subito molto bene Pedro è chiaro che il curriculum parla per lui però magari si poteva pensare che qualche piccolo problema d'ambientamento potesse esserci invece è sembrato subito uno del gruppo Sì, è un giocatore come hai detto che insomma ha un passato notevole perché ha vinto già a Champions League, ha giocato in grandi club quindi non è che è il giovane emergente poi a Roma, ti ripeto, non è semplice arrivare e imporsi subito lui ha dimostrato invece di avere le qualità per far bene da subito forse messo anche in un contesto tattico giusto Ecco, tra i giovani invece ce ne sono tanti nella Roma qual è quello che ti piace in particolare? Mi riferisco ad esempio a Cumbulla, Ibagnez anche Carles Perez naturalmente ha fatto vedere di avere grandi doti Sì, ora devo essere sincero, li conosco poco perché si sono visti poco all'opera diciamo di quelli più già affermati a parte Zaniolo che ha avuto sfortuna mi sembra che Pellegrini sia giocatore con tanta qualità e che possa, diciamo, ricoprire anche più ruoli, diciamo, nel centro campo Poi gli altri le conosco poco, onestamente quindi è un po' prematuro per dare giudizio Pellegrini potrebbe essere anche il giocatore in grado di diventare il leader di questa Roma? Caratterialmente non lo conosco però mi sembra un ragazzo per bene un giocatore che, ripeto, ha tante qualità perché è un giocatore con un gran piede ho visto anche l'anno scorso diverse volte assist di grande qualità è un giocatore che anche se gioca 15 metri più avanti ha il passo e i tempi di inserimento e spesso potrebbe trovare il gol vedo che ora lo sta facendo giocare un po' più arretrato per supportare le due mezze punte e Dzeko però appunto mi sembra un giocatore abbastanza completo E alla fine sei rimasto contento anche della permanenza di Dzeko alla Roma visto che si parlava di un suo possibile addio ti ha fatto piacere che sia rimasto? Sì, da tifosi simpatizzati a Roma è chiaro che avere un centro avanti di quel livello lì è sempre positivo poi sai lì non si sa come era diciamo come si era svolta la trattativa quindi sembrava veramente fatta con la Juve probabilmente il mancato passaggio di Milik a quello che si leggeva sui giornali però Dzeko ancora nonostante non sia più giovanissimo è un punto di riferimento importante sia tattico ma anche come personalità per una squadra che comunque mediamente è abbastanza giovane Dietro di te tante edizioni degli almanacchi del calcio quanti ne hai? Ma ora non me ne ricordo comunque diverse Sono quelli che parlano anche di te? Sì, è il periodo che giocavo anch'io e quindi ci sono anche le figurine mie diciamo su questi almanacchi Ottimi ricordi è sempre bello andare indietro con la memoria a rivedere quello che un giocatore ha fatto e le sue gesta Paolo grazie per il tuo intervento buona serata Grazie a voi, ciao Parliamo ora del Torino che vive una situazione particolarmente difficile è ultimo in classifica domani Granata affronteranno il Genoa nel recupero del campionato anche Gianpaolo deve gestire un momento davvero delicato per il suo futuro, la sua panchina traballa ai Granata sono stati accostati in queste ultime ore i nomi di vari allenatori tra questi anche quello di Leonardo Semplici che era stato cercato in estate ma ci fa il punto della situazione sul Torino Emanuele Pastorella Tra Gene Crotone e Marco Giampaolo si gioca praticamente il suo futuro sulla panchina del Torino visto che dopo cinque partite non è ancora riuscito a trovare il successo e l'unico punto è arrivato a Reggio Emilia contro Sassuolo oltre a questo poi ci sono tutte le rimonte subite l'ultima clamorosa, quella contro la Lazio con Lukic che aveva segnato l'ottantasettesimo e la Lazio addirittura tra il 95esimo e il 98esimo è riuscita a dispugnare l'Olimpico Grande Torino sono questi i risultati di Gianpaolo appunto che domani contro il Genoa nel recupero della terza giornata prova finalmente a trovare la prima vittoria sulla panchina del Torino anche perché il suo destino comunque ha peso un filo la società non è ovviamente soddisfatta dei risultati del tecnico e praticamente ha dato una sorta di ultimatum al proprio allenatore che tra domani contro il Genoa e soprattutto domenica contro il Crotone deve se non altro portare a casa dei punti importanti perché la situazione di classifica di Granata si sta complicando domenica dopo domenica e poi per domani c'è il dubbio Belotti perché Belotti appunto ha subito una forte contusione al ginocchio nella sfida contro la Lazio ancora oggi alla vigilia si è allenato a parte con i preparatori Gianpaolo comunque vuole a tutti i costi provare a recuperare il suo capitano così se lo porta con sé a Genova e domani durante la rifinitura mattutina dopo il risveglio muscolare insieme allo staff medico valuterà le condizioni del suo capitano in alternativa è pronto Bonazzoli eventualmente a far coppia con Verdi da Emanuele Pastorelli da Torino è tutto, a voi la linea bene vedremo dunque se domani da parte del Torino ci sarà la svolta verrà trovata la vittoria che potrà in qualche modo rilanciare le ambizioni dei Granata noi siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News grazie a tutti per averci seguito ci ritroveremo domani buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti